Sindaco Savoca non è soltanto il padrino, ci sono quattro appuntamenti sui quali le ha puntato l'attenzione nel corso dell'anno che puntano a proiettare il nome di questo borgo a livello nazionale e internazionale. In questo contesto si inserisce l'organizzazione della Passione di Cristo, oltre cento le persone coinvolte che faranno parte, quali attori, tecnici e così via. Per quanto concerne un appuntamento è diventato punto di riferimento non soltanto per il comprensorio, ma va al di là. Ha detto bene, Savoca oramai sono quattro gli appuntamenti fissi di rilievo, che sono appunto la Passione di Cristo, il Presepevivente, la Festa di Santa Lucia e itinera in estate. Sono quattro manifestazioni, quattro eventi su cui noi puntiamo molto. Noi intendo amministrazione, parrocchia, grazie al coordinamento di padre Agostino Giacaloni e grazie alla collaborazione della comunità, perché la sinergia è fondamentale per far sì che questi eventi comunque siano punto di riferimento per Savoca, perché Savoca oramai è un nome proiettato a livello internazionale e faremo di tutto per far sì che queste manifestazioni durino nel corso degli anni, perché è importante che Savoca tramite queste manifestazioni porti avanti quello che è la cultura del paese di Savoca. Sì, è cambiato parecchio dalla prima edizione. Il nostro impegno si è concentrato prima di tutto su quello che è la recitazione, l'interpretazione degli attori che non sono professionisti, questo lo dobbiamo sempre sottolineare, ma siamo felici del lavoro ottenuto insieme a loro nell'ultimo mese e quello che stiamo ottenendo adesso nelle ultime prove è qui a Savoca e sabato 1 ci sarà la prova generale. Per quanto riguarda gli effetti speciali, sì, colonna sonora, effetti speciali e quant'altro, abbiamo lavorato tantissimo in queste dieci edizioni, con il supporto anche di un grossissimo studio di Milano, siamo riusciti a ottenere dei grandissimi risultati e la crocefessione è diventata davvero talmente disarmante anche per noi dello staff che non possiamo fare altro che commuoverci anche noi. Siccome ho già detto poc'anzi durante la conferenza stampa, dopo la pausa per le restrizioni pandemiche riproponiamo quest'anno anche la decima edizione della Passio Cristi qui a Savoca. Savoca di per sé non ha bisogno di essere valorizzata da nessuna manifestazione, però con la Passio Cristi diamo un'importanza più visibile a quella che è l'immagine del nostro paese. Ed è bello, è una manifestazione bellissima, c'è dietro tanto lavoro, tanta collaborazione, tanta sinergia. Quello che a me piace è evidenziare il lavoro che si fa insieme. Ognuno ha la propria mansione, ognuno sta curando un proprio aspetto. Certamente viene fuori quella che è una bellissima manifestazione, però dietro c'è molto sacrificio, c'è molto impegno, c'è tantissimo lavoro. E questa non la vogliamo riproporre. Ecco, ci auguriamo che, come negli altri anni, d'altronde veniamo forti dall'esperienza delle prese viventi che abbiamo vissuto a Natale. E quindi, forti di questa esperienza, riproponiamo anche quest'altra esperienza, questa manifestazione della Passio Cristi. Ho detto, io ringrazio tutti, veramente, ringrazio la regia, ringrazio la direzione artistica, ringrazio il comune, ringrazio tutti i partecipanti, tutti i personaggi, ma in primis ringrazio tutti i miei operatori pastorali, veramente. A Stavoga abbiamo una bella abitudine, quella di fare gruppo. E certamente nel momento in cui si fa gruppo viene fuori quello che avete visto a Natale e verrà fuori quello che certamente vedremo anche domenica prossima con la Passio Cristi.